e comunque discorso grembo ieri grembo ha fatto una live un nuovo format quasi quale un'intervista essenzialmente se non sbaglio si chiamano artista e mezzo credo questo dove ospite tipo un cantante ok è andato ospite ho visto un po la puntata allora posso essere sincero perché poi sembra una gag però io voglio essere sincero vai tananai pensavo fosse l'amico di social boom come lo cristale è esatto il cristale quello alto no quello alto è quello alto si chiama aiutatemi quello che è stato picchiato dici come si chiama so che è molto alto un amico di social boom pensavo fosse lui tananai no no non è lui non è lui tete pensavo fosse tete invece non è tananai ok avevo confuso tananai per tete ulli no no non c'entra niente ulli ragazzi no non c'entra proprio niente ulli assolutamente nulla non sta neanche a milano ho visto qualcosina poi ho trovato alcuni best of su tiktok di questa live diciamo che a un certo punto tananai completamente ubriaco possiamo dirlo comincia a prendere per il culo grembo e proprio a trattarlo malissimo io devo dire che ho un po empatizzato con lui perché ovviamente da una parte qualcuno potrebbe dire un contrapasso cioè tu spesso fai il grosso con i tuoi ospiti non li pimpò per cura sabotta hai beccato quello più grosso di te ovviamente e il timore reverenziale ti ha reso inerme quindi da una parte posso dire a grembo tutta esperienza è normale avere un po di timore davanti a personaggi comunque che hanno un carisma comunque una notorietà però vediamo perché alcuni passaggi ma non un po intristito devo dire ma non è un altro video eccolo allora per l'indiretta qua c'è un piccolo best of dei momenti top ci sta i momenti peggiori anche questo si chiama grembo bullizzato da tananai questo momento con tananai eccolo qua ragazzi mi sono già rotto il cazzo di stare qua incredibile è veramente veramente pesante stai vicino puzzo partiamo queste domande mi sono rotto il cazzo di stare qua ma mica queste cose sono già le domande a queste sono parte delle sembra infatti all'inizio sembra sì sembra preparato all'inizio no preparato sembra un mood comunque simpatico da faccontent non sembra per adesso un mood tipo o molesto o te sto più a per culo o davvero non mi aveva testa qua io all'inizio inizio da un'intervista e mi sono rotto il cazzo in testa mia penso ok sta scherzando esatto il problema è che poi va avanti e se vede che comunque grembo voraccio ci rimane un po male perché comunque si sarà fatto pure un bel bucio del culo che organizza tutto comunque questa è la parte è la parte più bella del format adesso iniziamo con la parte decadente ci balleranno e cazzo ce ne frega meno male grazie a dio però a livello di rendimento pensate che è l'utilità del cazzo che mi trovo qua a fare una live su twitch con grembo cioè chi tra chi l'avrebbe mai greve quando è stato il manager a accettare questa cosa e non tu invece da questa frase sembra un fama te hai già guardato sto video oppure per te una reazione allora rimettiamolo da capo va bene grazie perché voglio che analizzi allora grembo non so se hai sentito è stato trattato male dal suo ospite di ieri no è la prima puntata di un format grembo come la g qua è stato bullizzato addirittura la compilation della live dove grimbo è stato bullizzato vabbè mattana è il cantante no esatto questo sì nuovo format grimbo un artista e mezzo inizialmente sembrava un mood goliardico da parte di taranai poi il tasso alcolico di taranai si alza secondo me diventa sempre più sincero e cattivello a una certa attesa ma un fan del cerbero qua dove abbiamo messo pausa noi ma la libertà del cazzo che mi trovo qua a fare una live su twitch con grembo ha detto mica quel cazzo pensa che utilità del cazzo fare una live su twitch con grembo io che mi trovo così vabbè no non dai è utile fare una live con grembo c'è come buttavamo fuori uno e c'è una cosa del genere io buttavo io apprezzerei io apprezzerei di avere un ospite con sto mood perché mi mette in condizioni di averlo anch'io e ulteriormente anzi anche di tirargli di fare l'unico ospite che aveva questo tipo di mood che io mi ricordi era di pre un pochetto anche la si è vero pure metal carter infatti stavo dicendo prima se posso un piccolo consiglio a grembo comunque ormai sono tre anni facciamo interviste allora ci sono due tecniche o ti imponi anche tu col carisma e come diceva Gianluca stai al gioco però fai vedere che non sei totalmente imbarazzato oppure a un certo punto lo disinneschi se no proprio lo lasci fare tipo un metal carter a un certo punto ci ho provato fino alla fine non rispondeva mai alle domande non gliele pregava un cazzo stava qua solo per farsi il marchettone a certo punto ok vai cioè non ho neanche risposto come ho detto ma vabbè qua fate due flessioni no vabbè vai vabbè lì è dietro posto faccia faccia sì 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 è stato un momento imbarazzantissimo sì sì ma a certo punto non mi è fottuto più un cazzo sinceramente cioè se vieni qua solo per farsi la marchetta tanto la gente non è stupida se ne è resa conto e va bene così taranai comunque mi è stato un po' sul cazzo qui di solito mi è stato molto simpatico infatti l'avevo detto cioè lo vorrei ospite eccetera però te fai il grosso capito perché c'è avuto un'autorità gigantesca e vabbè mo vedrete comunque hai ruttato prima di venirmi nell'orecchio è perché quello ce l'avevo non sei professionale lui usciti dalla live ragazzi una mancanza di professionalità una dopo l'altra potrebbe essere una trollata non lo so sì sì un po' lo è però ovviamente lui sta pure bello brilletto diciamo così che non gliene frega proprio un cazzo sono le cose che direi io da Grimbaud però sono le cose che magari la gente si aspetta magari lui ha fatto un po' più stunnà no perché dice com'è c'ha sto comportamento più che altro perché però a me per ora sembra una cosa chill non ce la vedo più che altro secondo me è molto impegnato Grimbo per sto format fosse stata una sua intervista classica stannar buio però è un format nuovo per lui capito fosse stata una classica live sarebbe andata una bomba secondo me con questo mood effettivamente una telecamera puntata su un divano con due che parlano è un format comunque innovativo che vale la pena incoraggiare no che format di merda no vabbè qua sta esagerando è una mera intervista di merda si può dire una mera sì perché perché sì ok perché sì mi diverto di più perché so quali sono sbronzo totale anch'io non capisco un cazzo veramente mica che live non capisco niente mi sono arrivato che ero già sbronzo qual è il film che secondo te presenta più la tua vita in questo momento oddio visto le cose che si sta facendo magari tipo Truman Show ok di DiCaprio no ma che cazzo dici ma qual è DiCaprio che è un regista di DiCaprio ti manca di con l'ha fatto DiCaprio a Truman Show ma sei infattuale ma giusto su questo cioè è giusto bullizzare Grambaud no ammazza mo perché gli piace un film fatto da DiCaprio non che trova la camera proprio ne ha visto solo lui quello si può fare la unsub sì si può fare fatelo perché loro possono rimborsare la sub se si possono subare chi deve rimborso fatelo no non lo fanno sì sì fatelo quindi solo i sub scrivono in questo momento potrebbe pure essere una gag gimmick in cui sono detti trattiamoci malissimo all'americana io ho creduto fino ad un certo punto questa cosa nel senso che adesso succederà una cosa grazie grazie dove te non hai mi sembra molto sincero è quello che effettivamente è anche quello che potrebbero dirci a noi con Metal Carter mi siete messi d'accordo purtroppo no è capito no vabbè ma che forse ci sta per carità ripeto poi Gramble primo comunque gioca con i suoi ospiti quindi ma sì mi ricordo Between Two Ferns ho ricordato ormai quello con Zach Galifanagis che discutono era basato sul fatto che l'ospite si trovava sempre malissimo perché lui era un coglione però era uno sketch penserebbero ogni parola sì ma non mi toccare fai una battuta lo tocchi sembrava Boris ha fatto Morizzi sembrava Boris guarda 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 eh io qua ho detto oddio forse non stanno a scherzare guarda guarda sì ma non mi toccare ho dei problemi vero sì gravi sì davvero sì io è una cosa che volevo fare a un sacco di artisti perché se fossero tutti così no sono l'unico chiudetela ci sta basta abbiamo fatto tre ore e mezza di live fine vabbè comunque la live sì a base a finita mettiti in quadratura quella base ragazzi oh se tu mi riprendi ancora il brufolo te lo giuro che finita la live ti corco no è impazzito ma stava davvero modificatissimo con il camera meglio voraggio vabbè una rockstar sì sì camera e cucchiare ma vale il brufolo vabbè comunque è l'altro lato chiudetela ci sta basta abbiamo fatto tre ore e mezza di live fine comunque la live si è abbastanza finita mettiti in quadratura quella base ragazzi oh se tu mi riprendi ancora il brufolo te lo giuro che finita la live ti corco mamma mia comunque è successa pure una cosa drammatica io oggi volevo fare con la chat il fantabosca ciao